Di filmo non abbiamo parlato tanto sul canale, tempo fa pubblicato un video che tra l'altro ha avuto anche un certo seguito nel quale vi spiegavo un po' tutte le funzionalità di questa applicazione per l'editing, un'applicazione... Ehm, scusami se ti interrompo. Non mi hai riconosciuto? No, non ti riconosco con questa magia. Così va meglio? No, no, neanche così ti riconosco. Ah, eccoti! E che ci fai qua? No, sono venuto qui per ricordarti di iscriverti al canale e attivare la campanella, eh. Sì, l'ho fatto. Bravo, bravo. E Agis Deals sei iscritto al nostro canale? Sì, sì, sono iscritto, anzi, iscrivetevi anche voi. E stai parlando di Filmora, giusto? Filmora, sì, sì, Filmora. Quindi se adesso tu te ne vai un attimo, insomma, puoi continuare a lavorare. Beh, niente, allora ti lascio lavorare. Ciao ragazzi, ciao a tutti e ciao mamma. Dicevo, come avete notato da questa simpaticissima gag, l'applicazione si è aggiornata, introducendo sostanzialmente delle funzionalità che sfruttano l'intelligenza artificiale. Delle funzionalità che in un certo senso è come se trasformassero l'editing video in un'applicazione per i social. Vi faccio un esempio, proprio scemo, i filtri di TikTok o i filtri di Instagram. Tant'è che si può fare questo, questo, così sono ancora più bello, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi filtri e in questo video voglio parlarvi un po' di tutte queste novità. Chiaramente per qualsiasi cosa lasciate un commento se volete aiuto in qualche passaggio dell'applicazione e in basso trovate anche il link per scaricare l'applicazione, un'applicazione chiaramente a pagamento ma si può utilizzare per un periodo gratuito con uno sconto, qualora vogliate acquistarla. Insomma, iniziamo. Come vedete sono in salotto e perché sono in salotto? Per farvi vedere che con questo nuovo aggiornamento, sfruttando l'intelligenza artificiale, per cancellare lo sfondo e quindi fare una sorta di chroma key, non mi serve un reale chroma key. Ecco qui, ho tolto lo sfondo, signore e signori, e mi metto in basso a destra perché adesso andiamo a parlare un poco dell'interfaccia. Ed eccoci qua, questa è l'interfaccia di Filmora, la conosciamo molto bene, quello che vedete adesso è il progetto dell'intro, vedete è molto semplice anche da fare, però creamone uno nuovo perché voglio farvi vedere come funzionano questi nuovi filtri. Vado su un nuovo progetto e come vedete posso scegliere i diversi formati, questa è una cosa ottima per chiunque voglia registrare un video, o montare un video magari per i social. Noi andiamo in 16 noni widescreen ed eccolo qua, a questo punto dobbiamo prima di tutto inserire il file che vogliamo elaborare. Io utilizzo il file che ho usato nell'altro progetto, tanto non cambia niente, scegliamo chiaramente le impostazioni del progetto e in 30 secondi, eccomi qua come sono bello, e in 30 secondi subito viene caricato. Adesso scegliamo una parte dove si vede bene il mio corpo e il mio faccione, facciamo questa qui che è quella più interessante e cancelliamo le altre. Io in questo momento vado ad eliminare la traccia audio, abbasso il volume perché tanto non ci serve. Ed eccoci qua, allora come funzionano questi nuovi filtri? Funzionano in una maniera veramente semplicissima, non bisogna fare altro che cliccare su effetti, aprire il menu e vedete eccoci qua, li troviamo subito, sono gli AI Portrait e gli adesivi AR. Sostanzialmente ragazzi, la realtà dei fatti è che si tratta di filtri e di effetti che grazie all'intelligenza artificiale capiscono il soggetto in primo piano ed eliminano chiaramente lo sfondo. Quindi per esempio, sui AI Portrait ci sono esattamente 9 filtri, 9 filtri che permettono diverse cose. Facendo un doppio clic sull'anteprima si vede una piccola anteprima, vedete sullo schermo dell'effetto che si andrà ad applicare, ce ne sono tantissimi, c'è il BIM, vedete che... Ah, in questo caso c'ho l'Aureola, fantastico. Poi è possibile utilizzare una sorta di traccia che si va a mettere attorno al soggetto in primo piano. Ce ne sono veramente tantissimi ragazzi, guardate, ed è veramente molto molto semplice utilizzarli. Tra l'altro alcuni di questi filtri e alcuni di questi effetti poi sono anche modificabili una volta inseriti sulla traccia. Allora, per esempio, facciamo finta che io voglio togliere, ecco qua, il background, basta un clic e il background si va a togliere. Ma per applicarlo lo devo trascinare, chiaramente, nella traccia video che ho messo in timeline. Vedete, in questo caso però lo scontornamento non è venuto proprio benissimo, è anche una questione di luci, io dietro ho le luci colorate, ma si può modificare questa cosa facendo un doppio clic sulla traccia e scendendo in giù. Vedete, qui c'è la voce effetti video con la quale si potrà modificare, per esempio, lo spessore della traccia che si vuole dare, in modo tale da averne uno più adatto alle proprie esigenze, ma anche una sorta di morbidezza che è una sorta di ombra interna. Quindi io la aumento un pochino qua così, diminuisco un po' qua così, così sembra proprio un ectoplasma, tipo un fantasma. Insomma, si possono modificare tutte le impostazioni principali di questo effetto senza avere un chroma key. A questo punto cosa potrei fare? Potrei inserire un'immagine di sfondo, un'immagine di sfondo che ho scaricato da Google e ho sulla scrivania. Eccola qua, questa è l'immagine, quindi cosa facciamo? Sposto in alto il soggetto che voglio sia in primo piano, metto in basso l'immagine, allungo qui, e voilà, come per magia sono in spiaggia. Chiaramente adesso non ho proprio ottimizzato la traccia dello scontornamento, però è davvero molto semplice anche modificare tutto ciò, perché non solo si possono utilizzare questi menu che sono molto intuitivi, vi devo dire la verità, ma si può anche utilizzare, vedete, proprio l'ingrandimento in anteprima, posso scegliere i layer cliccandoci sopra, in questo momento vado a modificare me, magari mi faccio un po' più piccolino, così un po' più bellino, piccino picciò, che è molto bello, e poi posso procedere a fare dei miglioramenti sulla traccia, o dei miglioramenti sullo scontornamento, vedete, è molto molto semplice da utilizzare. Ma adesso andiamo ad eliminare questo effetto video. Eccoci qua, perfetto. A questo punto vediamo gli altri effetti, come funzionano, perché sono veramente una figata pazzesca, elimino questo, perché tanto non ci serve più. E per esempio andiamo ad applicare il glitch di ritratto. Il glitch di ritratto cosa fa? Crea un glitch nel soggetto in primo piano. Vado a mettere play, vedete, questa è l'anteprima che poi si vede a schermo quando si andrà a fare l'esportazione del filmato. La cosa bella è che si possono anche applicare diversi filtri contemporaneamente, finché il computer non esplode, si può applicare di tutto. Ed ecco qua, io ho applicato diversi filtri che adesso incomincio un po' a scattare perché il mio Mac non è sufficientemente patente per gestirli tutti, ma si possono veramente inserire tutti i filtri che si vuole. E vedete, nella schermata, nella schermata delle proprietà della clip, si può modificare qualsiasi cosa. Ci sono anche gli adesivi AR. Adesso andiamo ad eliminare questi qui, che tanto non ci interessano più. E torniamo nella sezione degli effetti. Cliccando su adesivi AR troverete 40 adesivi che non sono altro che una sorta di filtri che abbiamo già visto per esempio su TikTok o su Instagram, insomma, riconoscono il volto grazie all'intelligenza artificiale e applicano un filtro. Per esempio il meraviglioso filtro del pirata. Io mi sento un po' pirata, ecco qua. Basta selezionare il filtro, bisogna scaricarli uno ad uno, ma lo fa anche automaticamente. Porta in alto la mano, sono il tuo capitano. Vedete, la precisione è veramente incredibile. Vedete, se non scaricate un filtro lo va a scaricare automaticamente e anche in questo caso si possono aggiungere più filtri sulla traccia. È una cosa veramente, veramente comoda e forse è anche un po' ridicola quando ne mettiamo un po' tutte. Adesso vediamo che succede qui. Ah, perfetto. Guardate qui che meraviglia, ragazzi. C'è di tutto sulla mia faccia in questo momento. I filtri sono ben 40 gli adesivi AR e quelli di Filmora ne aggiungeranno sempre di più. La cosa bella è che tutta l'applicazione si basa sul cloud. Andiamo a mettere pure questo che è una cosa meravigliosa e via con la dance. Guardate qui, è veramente, sta impazzendo. Comunque questo per farvi capire che l'utilizzo di queste nuove funzionalità è veramente molto semplice. Tra l'altro l'intelligenza artificiale lo fa in maniera veramente molto, molto, molto veloce. Cioè, basta fare un doppio clic chiaramente per andare a scegliere quali filtri togliere di mezzo ed è veramente veloce anche nell'anteprima. C'è un filtro che a me piace moltissimo, che è figo, l'ho fatto vedere anche prima, che è quello là che censura gli occhi, per esempio, dove è? Tra l'altro, se per esempio vado nella funzionalità AI Portrait, posso per esempio anche mettere un ritratto pixelato. In questo caso, diciamo, sono praticamente irriconoscibile, ragazzi. Dai, non esageriamo adesso. Adesso è, mettiamo anche un bel rumore di ritratto, voilà, e adesso non si capisce proprio assolutamente niente. C'è anche la funzionalità, guardate, schermo diviso. In questo caso si possono mettere diverse clip una accanto all'altra. È quello che avrei potuto utilizzare quando ho fatto il progetto dell'intro, però in un certo senso non aveva molto senso, perché volevo provare ad utilizzare le funzionalità proprio introdotte adesso con l'intelligenza artificiale. Guardate quanti ce ne sono. Insomma, è un'applicazione che con il tempo sta diventando veramente molto completa e si possono anche scaricare tutta una serie di alimenti video. Vedete che sfruttano anche il tracking automatico. Tra l'altro si può anche scegliere, l'ho fatto vedere in un altro video, si può anche scegliere il tracking automatico. Insomma, una volta fatto, una volta applicate le modifiche che volete applicare, adesso magari ne applichiamo una giusto per farvi vedere anche come funziona la fase di rendering, ma è veramente molto semplice. Mettiamo bordo di ritratto, va? Che è più bello. Eccoci qua. Tra l'altro in questo caso è molto importante modificarne le caratteristiche, perché vedete si può scegliere la dimensione, cioè lo spessore, si può scegliere l'opacità, si può scegliere il colore, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta fatte tutte le modifiche che volete fare, ragazzi, dovete fare altro che andare su Esporta, scegliere il formato con cui volete esportarlo, ed il gioco è fatto. E insomma, ragazzi, questo è quanto. Queste sono le novità di Filmora, dell'ultimo aggiornamento di Filmora 10, ed è un aggiornamento che secondo me è molto figo, soprattutto per chi vuole produrre dei video magari per TikTok o per i Reel di Instagram. No, lo può fare dal computer, può applicare tutti questi filtri, può rimuovere il background, può... Insomma, le possibilità sono veramente tante. E poi, come sappiamo, Filmora è un'applicazione che riesce a gestire file di grandi dimensioni e con grande risoluzione, nonostante il computer non sia poi troppo potente. Per tutte le altre informazioni sull'applicazione, vi lascio in basso anche il link all'altro video che abbiamo pubblicato sul canale. Io sono Dario Caliendo e ci vediamo al prossimo video su Giz. Ciao!